Allora, Diego, mi ha appena fatto massplaining. Adesso che è arrivato da mangiare ti sei alzato. Prima due ore io dico facciamo il video. Sì, guarda, alla prima testa c'è l'ascensore. Finalmente ti sei alzato, Diego. Sono dieci ore che ti chiedo di venire a lavorare. A lavorare? Che lavoro? Non è un lavoro il nostro. Ho fame. Sono le dieci e mezza doveva arrivare il globo alle o alle dieci. Alle? Dieci. E adesso sono le dieci. Sai che non faremo il video sul globo, sì? Ci hanno detto tutti quanti basta globo. Ho capito, ma abbiamo ordinato gluten free. Per la prima volta. Sushi, che cazzo è? Sushi è gluten free di base? Vabbè, ma dov'è? Ma gli hai detto di prendere l'ascensore? L'ha preso adesso? Sì. Perché ci ha messo tutto sto tempo? Non lo so, magari cammina così. Vabbè, comunque mo' mangiamo. Non fanno il video. Voglio mangiare in pace e poi fanno il video. Ma io voglio fare il video per una volta su una cosa che mangio anch'io. Ho preso il sushi senza salsa. Troppi tempi morti. Cioè, sono lamentati. Tocca se ne conto dei feedback delle persone che ci seguono. Ho capito, Diego. Ma a parte che possiamo cambiare inquadrature. Ah, questa è la tua bowl. Senza salsa te li chiacchi. Ma amore, com'era il tipo del globo? Ma che cazzo vuol dire? Era carino. No, è body shaming. Non ci fanno queste cose. Ci stragano. Perché? Dire che uno è carino è body shaming. Se non è carino è brutto, quindi... Cioè, puoi dire solo che è carino? No, secondo i miei gusti mi sarebbe piaciuto. No. Body shaming. Ma non è vero. Ma allora uno non può... Allora non ti posso più dire... Tesoro come sei carino. Diego come sei carino oggi non te lo posso più dire. A me sì. Ma non puoi giudicare un'altra persona. E vabbè, ma a te quando non ti conoscevo non... Vaffanculo. Ciao, ciao. Ciao. Uewe. Uewe. Ok. Come devo iniziare? Uewe, ambo bello. Stiamo mangiando il sushi. Va bene, vai. Uewe, sono Federico Ambrato. E mi sto mangiando il sushi. Ma, secondo te, no? Io, adesso, posso far vedere... Guardate, ragazzi, che bello. Guardate che bel sushi. Oh, ma perché non mi fai fare il video del sushi? Oh, lo stesso. No, adesso l'hai fatto con Franchino. Io non posso più fare il video del sushi perché tu hai fatto le tue cose con Franchino. Non mi hai rubato l'idea del content del sushi. Oh, ma questo è mio. Oh, molla. Com'era? Buono. Ottimo commento. Poi? Era bello o era brutto? Non lo posso dire, è un po' di shaming. No, quello lo vedi. No, mi ha appena detto... Perché hai buttato fuori i cavoli? Shaming? Sui cavoli? Cavolo shaming? Senti, qua ce ne stanno due. Ma tu non li mangi? E tu? No, io se non li mangi, li mangio, ma com'è possibile che tu non abbia più fame? Perché mi sono mangiato du garote prima. Le... Non sei più l'uomo che ho conosciuto. La conosci quella cosa che dice bisogna tagliare i rami secchi? Eh? Bisogna tagliare i rami secchi. Lo sai cosa vuol dire? Bisogna tagliare i rami secchi? Sì, ma è tipo simbolico. Cioè che in realtà è tipo come dire... Bisogna... Togliere il superfluo, quello che non serve più. Ma quando mi debito il cazzo? Dai Diego, volevo iniziare il video con una cosa poetica. Ma perché devi rovinare tutto? Ma quali video? Ma sei uno stronzo, ma stavo facendo una cosa poetica e devi rovinarmi il video. Ma quali video? Ma perché devi dire le parolacce poi? Ma che video stai a fare? Ma dobbiamo fare i video, Diego. Dai Diego, su, come lo facciamo sto video? Quali video? Come quale video, Diego? Il video del canale. Hai detto che dobbiamo fare un video a settimana. È passato un mese dall'ultimo video. Ma poi che è quel cuscino là sopra? È per coprire le putende. Non ci so mai che viene monetizzato il video. Ma a parte non è monetizzato. Che vuol dire non è monetizzato? Che tutti i video che ho fatto non si sono monetizzati. Spostati, sto guardando la televisione. Ma Diego, dobbiamo fare il video. Spostati, vuoi fare guardare la televisione? Ma che devi guardare? Cioè, tu stai guardando la tv spenta? Mi stai immaginando quanto è rotto? Questo è molto poetico da parte tua. Perché la tv fa schifo. Guardi, tu cosa ne pensi? Pietro, tu cosa ne pensi? Lo sai che l'aloe è l'unica pianta che è vissuta in tutto questo tempo, è sopravvissuta a me? Cioè, in realtà era della mia coinquilina e gliel'ho rubata. Cioè, me l'ha regalata. Ma ci sta facendo luce, Federica. Oddio. Ma non mi fai riprendere mentre faccio la luce? Tu mi stai facendo... Io infatti sentivo come una fonte di calore alle mie spalle. Ma non mi tende la luce, è brutto. Non si fa vedere te anche con le luci. Dai Diego, a parte gli scherzi. Scherzi a parte. Cioè... Forse dobbiamo chiuderlo questo canale. No. Non abbiamo più idee. È tutto finito. È come... Ma siamo al quarto video. È come... No, è il terzo video. Quello è il problema. No, è il quarto. È, ma dopo i tre. Cioè, la crisi dei tre anni. Nel nostro caso è dei tre video. Oddio. Mi è appena venuta un'idea. Davvero. Eccoci. Era questa la mia idea, Federica. Cioè, vedere Mary che caga. È contento. Vero, Mary? No, Diego, scusami. Però no. Perché no? Ma stai dicendo davvero? Sì. Diego, stiamo portando giù il cane. Cioè, non voglio far vedere a tutti la cacca di Mary. A parte che fa schifo. Cioè, che contento è. Boh. Qual è il problema? Non sto a cappella che te vuoi fare. È per vedere la mia Mary. Era questa l'idea. Ma l'idea di Mary. Ma l'idea di Mary. Eh, non volevo dire. Hai detto che dobbiamo essere puliti per gli sponsor. Vabbè, magari ci viene uno sponsor che ci dà la lettiera dei cani. O dei bustini per accogliere la merda. I cani non hanno la lettiera, Diego. Sì, ci stanno i predicelli. Vendono i predicelli fatti apposta. Perché non lo compiamo? Ciao, sponsor. Vabbè, però, amore, io sto imparando. Cioè, nel senso, non mi devi trattare male. Sono un'attrice, non sono una che fa i video. Ma io mi ti trattavo, ma io ti spiego le cose. Sì, sai che ti offendi l'inventativo? Noi, guarda. Abbiamo un po' che te la fa, non ho capito. Dobbiamo chiudere il video perché non mi piace quel finale. Quale? Quello che hai fatto non è un finale. Ma stai mutando. Puoi dire una frase... Poi abbiamo cambiato le sue magliette in tutto il video. Puoi dire una frase conclusiva? That's all, folks. Puoi dire una frase che ho passato. Grazie.